Benvenuti a tutti a questa serata di incontro tra cielo e terra, non è l'ultima, ne avremo delle altre, però oggi è con particolare piacere che introduco Maurizio Melis, che è un divulgatore scientifico anche conosciuto perché lo sentite tutti i giorni a Radio Popolare, dove conduce Radio 24, scusami, dove conduce un programma di Smart City, idee e innovazioni per il futuro, dove presenta essenzialmente le novità della tecnologia e il loro impatto che queste hanno sulla società e sull'economia, insomma che sono i particolari punti di suo interesse. Allora, Maurizio è laureato in ingegneria, ma io lo ricordo soprattutto perché nell'89 è salito all'osservatorio, quindi come tanti qui presenti è un associato, che immagino avrà senz'altro assorbito da Salvatore Furia un po' la passione e l'attenzione per l'ambiente e per le trasformazioni che l'ambiente sta subendo in questi anni particolarmente. E questo è un pochino diventato un po' il filo conduttore appunto della sua attività professionale, che appunto lo vede impegnato appunto a Radio 24, ma anche in tanti convegni come moderatore di tante situazioni, l'ho incontrato l'ultima volta in regione Lombardia dove appunto moderava un incontro piuttosto importante di un sacco di realtà, di innovazione appunto che hanno luogo qui in Lombardia e Svizzera. Allora, quella è la prima slide che Maurizio presenterà, quindi il titolo ve lo leggo io. Il nucleare pulito, identichite del reattore ideale e quale ruolo questo abbia nella transizione energetica. Viviamo un momento molto particolare insomma di necessità di ricorrere a nuove forme di energia per tanti motivi, motivi di tipo politico, geopolitico ma anche assolutamente motivi di tipo ambientale appunto. E quindi siamo interessatissimi a sentire quello che ci racconterai sul nucleare. Mi permetto magari subito di dire due cose degli appuntamenti prossimi, così non me lo dimentico. Ecco, i prossimi appuntamenti sono tre. Allora il più vicino a noi è un cineforum, verrà proiettato il 14 novembre martedì sera alle 21 al cinema Multisale Impero, il film Galileo di Liliana Cavani, un vecchio film che racconta la vita di Galileo un pochino. Poi, diversamente da quello che è annunciato sul volantino che potete ancora ritirare, il giorno 17 novembre invece di sentire appunto una presentazione su Marie Curie, sentiremo una presentazione su ChatGPT, che è una strana sigla, che però molti forse di voi avranno sentito, un argomento di estrema attualità, insomma, quindi quello che l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando appunto nell'informazione, nel mondo dell'informazione di oggi. Sarà sempre Giuseppe Piccinotti a parlarcene e Marie Curie invece lo ascolteremo l'anno prossimo. E infine, venerdì 15 dicembre, James Webb Space Telescope, ecco quindi con quello chiuderemo incontri tra cielo e terra di quest'anno. Ti lascio la parola, grazie. Grazie Luca, buonasera. Allora, faccio una cosa, mi rimangio subito il titolo, cominciamo così, nel senso che uno dei problemi probabilmente oggi è che, diciamo rispetto a questo tema del nucleare, che è diventato uno dei tanti aspetti su cui si genera polarizzazione, per cui ci sono fan e contro fan, sentiamo utilizzare questi termini molto generi, il nuovo nucleare, che è il nuovo nucleare, il termine nuovo nucleare non ha nessuna dignità scientifica, diciamo così. Probabilmente neanche il nucleare pulito ha una dignità scientifica, anche se in prospettiva, anche se non nell'immediato, poi ci arriveremo, qualcosa di simile a un nucleare pulito effettivamente potrebbe essere possibile. Allora, io non sono qui per sostenere né la tesi A né la tesi B, il mio tentativo sarà quello di darvi un po' di elementi di giudizio e di valutazione con i quali possiate farvi un'opinione. Non sono neanche un fisico nucleare, quindi la mia competenza è più in generale sulla questione energetica, di questa mi occupo da tanti anni, in modo, almeno io ci provo abbastanza approfondito, almeno questo è il tentativo che faccio, e quindi diciamo se ho qualcosa da trasmettere, un po' di visione in insieme su quello che è il tema della transizione ecologica e sulle problematiche che questa implica. Di questa transizione ecologica potrebbe far parte anche il nucleare. Non so se uscirete da qui, a parte che ho imparato da tempo che è molto difficile scalfire le convinzioni una volta che sono state acquisite, per darvi un'idea io non ho precise opinioni in merito, proprio perché è un argomento complesso, perché ci sono tanti punti di domanda che probabilmente si chiariranno un pochettino di più nei prossimi anni. Allora, intanto mi scuso per la prima slide che è terrificante, ma ho finito di sistemarla, ho cominciato una settimana fa, non è che ho passato tutta la settimana a fare la presentazione, ma oggi come sempre viene la voglia di aggiungere e modificare qualcosa, l'unica cosa che non ho pensato, devo dire, era una slide con il titolo. Allora, io prima di parlarvi di nucleare e di quali sono attualmente, senza entrare né nei dettagli più di tanto della fisica delle reazioni, perché non sono un fisico nucleare o nei dettagli dei singoli reattori, cercherò di darvi un'idea, diciamo, degli aspetti principali, ma non certo entrare nei dettagli a parte che non ne avremo il tempo, vorrei cercare di spiegare perché ha senso, che ruolo potrebbe svolgere il nucleare in una transizione ecologica, in particolare nella cosiddetta transizione energetica, che è una sottoparte, un sottoinsieme della transizione ecologica. Perché immagino che la prima domanda a cui dobbiamo cercare di rispondere è, ma come? Abbiamo finalmente, dopo un secolo, un secolo e mezzo, delle fonti di energia che sono competitive con le fonti fossili, sono anche delle fonti ragionevolmente pulite, anche queste fonti energetiche pulite nel senso del tutto non esistono. Io lo dico spesso, l'unica cosa a impatto zero è la morte e anche la morte emette emissioni, perché quando ci decomponiamo buttiamo CO2 in atmosfera, quindi non esiste nulla che sia totalmente impatto zero, però insomma ci sono molti gradi di impatto ambientale non che si possono avere. Allora perché in un momento storico in cui finalmente abbiamo delle fonti competitive, in particolare il fotovoltaico e l'eolico sono due fonti ormai mature che hanno costi al kilowattora, al kilowattora è l'unità di misura dell'energia, perché ci viene in mente o qualcuno propone il nucleare, oltre che magari per ragioni di interesse che evidentemente esistono. Allora vi faccio vedere, il problema è questo, detto in soldoni, adesso poi vi faccio vedere qualche grafico per chiarirlo un po' meglio. Il problema è che noi parliamo sempre di transizione ecologica da fonti fossili a fonti rinnovabili, ma dovremmo aggiungere da fonti fossili programmabili a fonti rinnovabili non programmabili o aleatorie. Cioè se noi avessimo una fonte rinnovabile che uno schiaccia il tasto decide quando produrre energia, non staremmo qui a parlare, sarebbe del tutto fuori luogo a parlare di energia nucleare. Abbiamo bisogno, può avere senso parlarne, perché le fonti rinnovabili, quelle di cui disponiamo, sono fonti non programmabili, decidono loro quando produrre energia e quando non produrre energia. Ci sono anche fonti rinnovabili programmabili? Sì, c'è la biomassa, che però, come dire, ci si può fare affidamento solo entro certi limiti. Pensate, la fotosintesi ha tra l'1 e il 2% di efficienza sotto il sole. Una pianta, il mais, che è una di quelle che ha la massima efficienza di conversione dell'energia solare intorno all'1%. La fotosintesi arriva al 2% in laboratorio se mettete, come dire, la clorofila sotto una lampada. Altrimenti quella ha la capacità di conversione. Un pannello fotovoltaico fa il 22, per capirsi. Commerciale, poi si può salire con tecnologie più avanzate. E poi, naturalmente, non si può disboscare il mondo. E anche se lo facessimo, questo è stato scoperto già nell'Ottocento. Gli inglesi hanno cominciato a sfruttare il carbone perché avevano finito gli alberi, per capirsi, sostanzialmente. Qualcuno dice ogni tanto che l'età della pietra non è finita per carenza di pietre, ma l'età del legno è finita per carenza di legno. Allora, il problema è che appunto il sole e il vento sono irregolari. Questa è una curva e sono irregolari su varie scale. Questa è una curva di produzione fotovoltaica quotidiana di un giorno. Sono due giorni di luglio del 2020, l'undici e il tredici. L'undici è stata una bella giornata di sole, direi cielo terzo. Il tredici, evidentemente, ci sono state un po' di nuvole. E già vediamo che su una scala del singolo giorno noi abbiamo queste variazioni. Come possiamo affrontare un problema di questa natura? Beh, mettiamo un po' più di fotovoltaico, facciamo in modo che quella curva si allunghi verso l'alto, diciamo così, mettiamo una bella batteria che ormai viene venduta quasi sempre in accoppiata col fotovoltaico lì sotto in cantina, in modo da produrre, sovra produrre energia, a sufficienza per far sì che, come dire, nei momenti di carenza possiamo pescare energia dalla batteria. Entro certi limiti questa soluzione, quindi un accumulo elettrochimico, una batteria, è una soluzione diciamo per risolvere il problema della discontinuità energetica fra giorno e notte. Se cominciano ad essere tre o quattro giorni, la batteria comincia a fare già un po' fatica, ma è qualcosa che si può immaginare di fare. Su una scala, ecco, proviamo a spostarci su una scala mensile settimanale, quelle curve lì hanno un andamento più o meno settimanale, i buchi naturalmente sono in corrispondenza di file settimana, in cui in lì a di massima voi avrete un consumo di energia inferiore perché avrete un po' di imprese che chiudono sostanzialmente. Quindi la domanda di energia fa così, nell'arco di una settimana, e se andiamo a vedere la produzione di vento a sinistra e di sole a destra, non fa così. Queste sono delle settimane prese a caso naturalmente, vi faccio notare, allora vediamo com'è qua, eccolo qua, il laser è questo, no, questo è, scusate, arrivo, opla, torniamo indietro, dov'è che sono andato? Eccoci qua, allora è da girare così. Uno dall'uno al 23 di febbraio, quindi vedete che, come dire, gli andamenti non riflettono, e d'altra parte non c'è nessun motivo per cui dovrebbero riflettere la domanda di energia settimanale. Comunque vediamo che anche su una scala, diciamo, mensile, gli andamenti sono piuttosto irregolari. Che facciamo qua? Beh, possiamo magari, magari la batteria su scala mensile comincia a essere un po' difficile perché è un modo di accumulare energia molto efficiente, tra quanto buttiamo dentro l'energia elettrica e quanto tiriamo fuori, veramente cambia di poco, ci giochiamo un 5% dell'energia, un rendimento, quindi intorno al 95%, però è un modo molto costoso di accumulare energia a una batteria elettrochimica. Però ci sono alternative, esistono sistemi di accumulo basati, per esempio, sulla CO2 liquefatta, uno può comprimere l'anidride carbonica, un gas o altre cose, intendiamoci, ma per esempio, questa c'è una tecnologia prodotta da un'azienda italiana molto intelligente, si chiama Energy Dome. Sostanzialmente questi prendono della CO2 che, per chi fa un po' di queste cose, diventa in condizioni molto facili, raggiunge uno stato cosiddetto supercritico, per cui è una via di mezzo fra un fluido e un gas e un liquido. per compressione la liquefatta la mette in un serbatoio e quando c'è bisogno di recuperare energia la fa rivaporizzare, si trasforma in gas uscendo da delle bombole in cui si trova liquefatta, fa girare una turbina che produce energia. Nel processo di compressione e decompressione ovviamente c'è assorbimento e rilascio di calore, questo può essere accumulato in modo abbastanza semplice, in modo da evitare di perdere troppa energia. E lì magari l'efficienza è del 75%, quindi se ne butta via un 25%, ma se ne recupera un buon 75%. Allora, adesso vi faccio vedere invece una curva di domanda di energia su scala annuale. E qua cominciano i problemi. Allora, in realtà questa è energia elettrica. Ora vi faccio osservare due cose. Questi sono vari paesi, vedete Germania, Italia, Francia, eccetera, eccetera. Come vedete, per esempio, l'Italia ha un andamento abbastanza costante. La domanda di energia elettrica è abbastanza regolare, addirittura con un picco intorno a luglio-agosto, sono i condizionatori. Una volta avrebbe avuto un buco in mezzo. Siccome adesso ci sono diffusi i condizionatori, il picco si è spostato a luglio. La cosa interessante è guardare la Francia. La Francia, sapete, produce gran parte di moltissima energia col nucleare, per cui anche i riscaldamenti vanno con dei pannelli con delle resistenze, sostanzialmente. Ora, siccome tutta la transizione ecologica-energetica richiede una fortissima elettrificazione, perché passare dal vettore energetico, scusate, gas, a quello elettrico, ha una serie di vantaggi. Uno è che noi produciamo bene energia rinnovabile di tipo elettrico, molto meno di tipo termico. Ecco, ho dimenticato di dire, una delle fonti programmabili è anche la geotermia, molto sottoutilizzata. Questa è una roba che dovremmo cercare di sviluppare di più. Ma dicevo, la domanda... Dicevo che la transizione ecologica spinge verso l'elettrificazione, cioè consumiamo meno gas, petrolio, carbone, altre cose di questo genere e consumiamo più energia elettrica. Perché per essere efficienti abbiamo bisogno di tecnologie elettriche che sono più avanzate. La pompa di calore è più efficiente della caldaia, la cottura e induzione è più efficiente di quella a gas, il microonde è più efficiente del forno a gas, eccetera. L'auto elettrica è più efficiente dell'auto a combustione. Quindi andiamo verso questa direzione. Allora, vedete subito che cosa succede se andate a elettrificare molto i consumi, come si è fatto in Francia perché lì hanno tanta energia elettrica prodotta da un vecchio tipo di nucleare, hanno tipo 58 centrali nucleari, non mi ricordo quante sono ancora attive, ma gran parte. Vedete che la domanda assume questa forma AU, con un bel buco in mezzo tra maggio, giugno, luglio e agosto, perché qua stanno facendo il riscaldamento. Il fotovoltaico è esattamente il contrario. Se guardate questi sono diagrammi, se questa di prima era la domanda, questa è la produzione di energia. Allora, vedete che la produzione di energia del fotovoltaico ha dei forti picchi, ovviamente d'estate, tante ore di luce con il sole molto alto nel cielo e dei buchi durante l'inverno. È esattamente il contrario di quello che succede alla domanda. Per il vento va un po' meglio. Vedete che il vento è per certi versi complementare al solare. Se guardate questo picco, che poi si ripete agli estremi, è incentrato più o meno su gennaio. Questa è una roba interessante. Dici, beh, cavoli, sfruttiamola questa cosa, no? Noi produciamo più energia solare d'estate, il picco della produzione di energia solare sarà d'estate, il picco della produzione di energia eolica sarà d'inverno. Peccato che dove, diciamo, geograficamente i luoghi che hanno una grande presenza di vento normalmente sono lontani dai luoghi che hanno una grande presenza di sole. Se vai al polo sud c'è un sacco di vento, ma c'è pochissimo sole. Nel nord Europa sono molto bravi, no? Diciamo anche bravi con l'eolico. Beh, tira anche molto più vento che da noi. Se vai nel sud Italia, nel Mediterraneo, per esempio, tutto questo vento non lo trovi, nemmeno sul mare ne trovi tantissimo. Però questo ci dà un'indicazione che qualcosa possiamo fare con questo giochino, no? Ecco, vi faccio vedere, ma questo è l'ultima grafico per capirsi. Questo è un anno di produzione di energia eolica e di energia fotovoltaica. Come vi dicevo c'è questa forte irregolarità, naturalmente questi diagrammi sono diagrammi che già contengono delle medie al loro interno, ok? Cioè lì dentro in realtà è fatto così. Lì hanno fatto una produzione media, ma in realtà sono fatti in questo modo, come vediamo nella slide successiva. Per cui c'è questo tema dell'irregolarità, che è il problema che noi dobbiamo risolvere per riuscire a fare la transizione ecologica. Questo è il più grosso problema tecnologico aperto in questo momento per concludere, per concludere. Siamo all'inizio. Per immaginare come chiudere la transizione ecologica stessa. Allora, che faccio? Era il penultimo, l'ho appena finito. Una possibilità è, beh ragazzi, riempiamo di pannelli fotovoltaici. Adesso faccio l'esempio con il fotovoltaico. Riempiamoci di pannelli fotovoltaici. Facciamo, sapete che c'è, ne mettiamo così tanti, ma così tanti, ma così tanti, che sostanzialmente siamo sempre in sovrapproduzione. Tranne in qualche momento nel quale ce la giochiamo magari con delle batterie o di sistemi di accumulo di medio-breve periodo. Ok? Tutta questa roba, quell'area che sta sottesa tra questa curva viola e questa curva verde, la buttiamo via. Potrebbe essere una soluzione. C'è chi dice, potremmo fare così. Qual è il problema? In questo caso è che dobbiamo cominciare a coprire delle superfici enormi, enormi di fotovoltaico. Stiamo parlando di vari punti, parecchi punti percentuali della superficie. Qualcuno dice, ma cosa vuoi che sia? Senza arrivare a questo estremo, cosa vuoi che sia il 2 o 3% della superficie nazionale? Insomma, non è che sia proprio pochissimo, anche perché, per esempio, se prendete un paese come l'Italia, non è che siamo distribuiti in modo equo sulla superficie nazionale. La gente abita sulle coste, questo un po' in tutto il mondo, in Australia. Australia è grande, però in centro non ci abita nessuno. Sono tutti lì sulle coste. Noi abbiamo circa due terzi di superficie di montagne, fondamentalmente. La popolazione è concentrata e tu mettere un impianto fotovoltaico a centinaia di chilometri di distanza, fare centinaia di chilometri di linee e per di più metterlo in cima alla montagna, che si vede bene, probabilmente non è una soluzione. C'è un problema che dovreste sovradimensionare enormemente. Tra l'altro ci sarebbero degli altri problemi. Durante questo periodo dell'anno l'energia non costerebbe più niente, perché è una sovrapproduzione enorme rispetto alla domanda. Questo farebbe crollare il prezzo dell'energia elettrica. Se crolla il prezzo dell'energia elettrica, chi investe per fare la sovrapproduzione? Chi lo mette un pannello fotovoltaico quando sa che praticamente gran parte dell'energia non riuscirà mai a venderla o a usarla? Funziona mica tanto bene. All'estremo opposto c'è che cosa? Produciamo giusto giusto l'energia che ci serve e tutto il resto lo stocchiamo. Questo fa sì che dobbiamo creare degli stoccaggi di energia, cioè trovare un modo per accumulare energie in grandissime quantità. C'è questo, come si chiama? C'è un nome inglese per dire questa cosa, adesso non mi viene e mi verrà dopo. Comunque il concetto mi sembra chiaro, no? Se io produco giusto giusto, quello che mi serve nel corso dell'anno, devo creare degli stoccaggi molto grossi perché arriverà a un certo punto l'inverno e io devo aver messo via d'estate tutta l'energia che non produco d'inverno. Qua c'è una via di mezzo dove evidentemente abbiamo una certa sovraccapacità, che mi sembra la roba più ragionevole ovviamente, una certa sovraccapacità che richiede comunque una certa quantità di stoccaggio non banale. Il problema è questo, lo stoccaggio, in particolare lo stoccaggio di lungo periodo. Per il giorno ce la caviamo, per la settimana tra un po' ce la caviamo, per il mese, per l'anno non ci siamo e adesso vi spiego questo. Uno dice a me ma c'è l'idrogeno, ci hanno fatto vedere che se ti annusi il tubo di scappamento dell'auto idrogeno non ti succede niente. Peccato che c'è una cosa chiamata termodinamica di mezzo, per cui tu dovresti produrre elettricità, poi trasporti l'elettricità, poi usi l'elettricità e ti sei giocato il 10% qua, poi di quel 90% che ti resta lo metti in un elettrolizzatore che è più o meno un'efficienta del 60%. Quindi stiamo parlando del 60% del 90%, quindi siamo al 54%. Poi magari la liquefacciamo. Dove lo mettiamo questo idrogeno? L'idrogeno è molto leggero ma è enorme, estremamente voluminoso, estremamente voluminoso. Quindi come gas se lo dovete comprimere veramente di brutto, per avere dei livelli di 700 bar. Ora siccome si vogliono dei pistoni per fare una roba del genere, non c'è turbina che tenga, si entra nel campo dell'efficienza di un motore a scoppio, siamo sul 40-50% di efficienza. Vuol dire che metà di quel 54% te lo giochi per la compressione. Con la liquefazione siamo lì, si perde il 40% di energia. Quindi dell'energia elettrica iniziale abbiamo detto che siamo al 90%, qua siamo al 54%, adesso qua siamo al 60% del 54%, che più o meno è il 33-34%. Poi lo devi trasportare, eccetera, eccetera. Se sei fortunato lo usi così. Tu lo sbatti dentro a un reattore, in questo caso una turbina di un aereo, che ha l'efficienza che ha, la stessa che avrebbe con un altro combustibile, più o meno. In molti casi non è detto se lo butti dentro una cella combustibile e vuoi riottenere elettricità, perché abbiamo elettrificato tutto nel frattempo, quel 37-40% che ti è rimasto lo butti dentro una cella combustibile che ha il 60% di efficienza. 6 per 4, 24% e siamo arrivati al 25%. Se voi parlate con gli addetti ai lavori, vi diranno che quella reale è intorno al 15-20%. E torniamo nel problema di prima. Dobbiamo fare un'enorme sovrapproduzione di energia elettrica, un'enorme sovrapproduzione per avere un quinto di quell'energia d'inverno. Quindi capite che il problema non è affatto banale. Se al posto di comprimerla ci facciamo gli e-fuel, di cui si parla tanto, il risultato è esattamente lo stesso. Perché comunque l'efficienza di quel processo è molto bassa, senza contare che uno mi deve spiegare dove prende la CO2 per fare gli e-fuel, perché gli e-fuel consistono nel prendere l'idrogeno verde, cioè prodotto dall'elettrolisi e combinando con la CO2, da dove la pigliamo sta la CO2? Se arriva dalla biomassa, ok, ma abbiamo detto che di biomassa se ne può usare fino a un certo punto. Se la prendiamo dallo scarico di una ciminiera, quella CO2 quando bruciamo gli e-fuel torna in aria. Tra l'altro sapete che c'è stato, non so se lo sapete, ma c'è stato tutto un dibattito su questa cosa, un tentativo di salveremo il comparto meccanico dell'automobile grazie agli e-fuel. È uscito un rapporto del Fraunhofer Institute qualche mese fa, qualche settimana dopo che il governo tedesco aveva sbandierato gli e-fuel e che ha demolito completamente gli e-fuel. Tanto per darvi un'idea, si prevede che risparmiare una tonnellata di emissioni di CO2 nel 2030 costerà 1000 dollari a tonnellata, quando una carbon tax, cioè una tassa sul carbonio ragionevole nell'ordine delle decine di dollari, 1000 euro contro decine di euro. Quindi fuori completamente da ogni logica di tipo economico e anche proiettandosi al 2050 le cose migliorano, ma non abbastanza. Si calcola un costo di un litro di e-fuel, solo costo di produzione, senza contare il costo di distribuzione, il costo di ricerca e sviluppo, i margini che devono fare, senza contare le tasse, senza considerare il fatto che tutta sta filiera qualcuno ci vuole di solito guadagnare, ci vuole fare dei margini sopra, siamo tra l'1,6 e 3,5 euro al litro, contro il 0,6 di costo circa di produzione di un litro di carburante oggi. Quindi problemi di due tipi, uno economico, per di più servono elettrolizzatori che sono un sistema costoso, richiedono allo stato attuale, ancora richiedono metalli nobili, catalizzatori rari, eccetera, eccetera. Lo stesso problema ve lo trovate dalla parte opposta della catena, se volete fare una cella combustibile, quindi l'idrogeno sì, però forse è un po' sopravvalutato. Prendo questa parentesi, perché è sopravvalutato? Perché probabilmente questa è un'opinione, quindi opinabilissima, meno i numeri che vi ho detto prima, opinabilissima, credo che ci sia stata una saldatura tra un, diciamo, ambientalismo magari un po' ingenuo che non si è fatto bene i conti di cui stiamo parlando e un fortissimo interesse del mondo oil and gas che vede nell'idrogeno la propria salvezza. Così sono stato, spero sufficientemente capito, perché se tu nella vita pompi gas nei tubi vuoi un gas da pompare, se tu nella vita vendi carburanti vuoi un carburante da vendere, chiaro? Andiamo avanti. Ah, poi c'è il problema dello stoccaggio, che al di là del costo, per quanto riguarda l'idrogeno, è il problema che non sappiamo dove mettere tutto sto idrogeno che ci servirebbe dall'estate all'inverno. Bombole, ipotesi numero uno, lo mettiamo in delle bombole. Auguri. Queste sono bombole da 200 bar, un camion carico di queste per portarle in giro, un camion carico di questa roba, a parte che come capite trasporta acciaio e non idrogeno, perché considerate che un tir che porta in giro questa roba alimenta circa 400 automobili, fa un pieno di idrogeno, sono circa 6 litri, 6 chili, scusate, 6 chili di idrogeno, un tir che trasporta benzina, trasporta 40.000 litri di benzina e sono un migliaio di pieni di automobili. Quindi intanto avete bisogno di 10 tir al posto di uno, per darvi un'idea. Cioè è un problema, è estremamente voluminoso. Tutti dicono è leggero, è vero, la bombola è un po' meno, è un po' meno molto da questo punto di vista, ma stiamo parlando di volumi immensi. L'idea che possiamo tenere miliardi di metri cubi di idrogeno compresso in bombole mi sembra veramente poco realistica. L'unica speranza è lo stoccaggio geologico. Le caverne di sale, che però hanno il problema che parliamo di un volume ancora molto piccolo, decine di migliaia di metri cubi, vanno bene se sopra c'è una fabbrica. Per un'acciaieria ce ne vogliono tre di queste caverne di sale. E non tutte le acciaierie sorgono su degli strati di sale, come potete immaginare. L'alternativa è quello geologico in roccia porosa, che si spera possa funzionare, ma allo stato attuale la verità è che non lo sappiamo, perché non sappiamo se la roccia è in grado di trattenere l'idrogeno, e soprattutto non sappiamo cosa fanno i batteri che vivono là sotto, che sono particolarmente golosi di idrogeno e probabilmente se lo papperebbero in buona quantità. Su questo però è ancora una questione aperta, non lo so, magari scopriamo che invece dopo un po' si mette una dieta, scopriamo che ci sono luoghi dove riusciamo a risolvere questo problema, però allo stato attuale non c'è una situazione del genere che abbia dimostrato di stare in piedi. Ecco, concludo, vi dico solo un'altra cosa velocissima, so che sto piegando molto tempo su questo capitolo, ma è importante perché se no non capiamo perché dovremmo discutere di idrogeno. Non c'è solo l'idrogeno, ci sono alternative, la tabella periodica è fatta di più di 100 elementi, non è che c'è solo l'idrogeno che si può fare con l'elettricità, l'alluminio si può fare con l'elettricità, tra l'altro non ha problemi di stoccaggio, un litro di alluminio sono 25 kWh di energia, se lo ribruciate in seguito, con varie tecniche, adesso non entro nel dettaglio, considerate che un litro di alluminio 25 kWh, un litro di benzina 10 kWh, un litro di idrogeno liquido 2,4 kWh, un litro di idrogeno compresso 700 bar 1,7 kWh, ok? C'è il sodio, che è una roba fantastica, se si riuscissero a fare bene il ciclo del sodio sarebbe, poi se volete vi dico queste cose più avanti, sarebbe una cosa meravigliosa, si potrebbe creare un ciclo carbon negative, quindi con cattura effettiva di CO2 utilizzando il sodio come sistema di accumulo, se volete ne parliamo dopo, se no non arrivo più in fondo. Alternativa numero 2, quindi una è lo stoccaggio, prendo l'energia elettrica, la trasformo in qualche modo in un intermedio chimico, può essere l'idrogeno, l'alluminio, posso immaginare mille robe, ma insomma passo per uno stoccaggio di tipo chimico. Un'ipotesi numero 2 potrebbe essere questa, vi ricordate che quando tira vento a nord non c'è sole a sud e quando c'è sole a sud non c'è il vento a nord? Allora se noi riusciamo a creare delle reti elettriche lunghe migliaia di chilometri che non si pappano nella trasmissione tutta l'energia, allora noi potremmo pensare di creare una grid, una rete elettrica paneuropea diciamo, per cui d'inverno ci pigliamo l'energia elettrica da Norvegia e la portiamo giù in Italia, d'estate pigliamo l'energia dal sole in Sicilia, la spediamo su in Norvegia, per fare questa roba serve qualcosa del genere, servono i superconduttori. Ora siccome qui sono a grave rischio a parlare di superconduttori perché qui c'è uno che li insegna all'università, cerco di dire meno sciocchezze possibile, sta di fatto che si stanno studiando, in Italia si sta installando una linea di questo genere, lunga 100 metri però, in una cabina primaria dell'Enel, questa è la situazione, considerate che qui ci vogliono delle leghe particolari, siamo tra i più bravi al mondo a farle, siamo i più bravi del mondo a farle, per la verità, solo che questo è un tubo pieno a sua volta di idrogeno di solito liquido per mantenere le temperature necessarie, se non elio liquido lì è finita, perché l'idrogeno liquido diventa liquido a 2,5380 per darvi un'idea, pressione ambiente, quindi voi immaginate un tubo che contiene dell'idrogeno liquido che funziona da refrigerante, eventualmente può anche funzionare da trasporto dell'idrogeno, per tenere al fresco questo cavo, dove però un cavo così vi porta alla stessa energia elettrica di non so quanti cavi larghi, un metro elettrici, e con delle dispersioni praticamente nulle, senza disperdere energia, questa tecnologia allo Stato non c'è, si sta cominciando a studiare, tempi di sviluppo non lo so, però è una cosa che si potrebbe pensare di fare, questo può essere un modo di risolvere il problema, ma ancora una volta dire che abbiamo la soluzione, no, non possiamo dire di avere la soluzione. Allora, ci sono altre strategie, ma arriviamo al nucleare. Allora, questa che vedete è, probabilmente sapete già tutti che cos'è, è la fissione nucleare. Allora, naturalmente oggi il dibattito è sulla fissione, non è sulla fusione che è più lontana, se ci sarà tempo e vorrete parleremo un po' anche di quella, ma per intanto discutiamo della fissione, che è quello di cui si discute, di questo stiamo parlando. Questa è la fissione di un particolare isotopo dell'uranio, l'uranio 235. Questo è un atomo di uranio che contiene 235 di queste particelle nucleoni, di cui 92 sono protoni e il resto sono neutroni. L'uranio 235 è lo 0,7% dell'uranio naturale, quello che troviamo in una miniera. Il restante uranio, in gran parte, è uranio 238 e non dà luogo a questo tipo di processo. Cioè non è naturalmente fissile. Può essere usato, poi ne parliamo, ma non diciamo... Questo processo è quello che dà, attualmente alimenta tanto tutte le centrali nucleari che ci sono in giro per il mondo, a parte qualche esperimento, quelle sperimentali di cui poi vi parlerò, ed è lo stesso che alimenta anche la bomba atomica, per capirsi. Un neutrone colpisce un nucleo di uranio, questo nucleo di uranio si spacca in due nuclei più piccoli, non sempre gli stessi due, i frammenti possono essere di vario tipo e si liberano tre neutroni. Sono tre neutroni veloci, circa a 20.000 km al secondo. Allora, oggi noi cosa facciamo? Facciamo in modo che questa reazione avvenga in una struttura che contiene di solito delle barre in cui c'è il combustibile immerse nell'acqua. Questi neutroni colpiscono gli atomi di idrogeno che si trovano nell'acqua e c'è lo stesso effetto che ottenete quando con il biliardo colpite con una pallina o un'altra pallina, l'energia dello stesso peso, perché il neutrone e il protone, che è il nucleo dell'idrogeno, pesano uguali, quindi l'energia si divide fra questi due particelle più o meno equamente. Parte sto neutrone e fa ta 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 ta. Alla fine arriva alla stessa velocità più o meno delle molecole d'acqua, si dice che termalizza. Quando un neutrone diventa un po' più lento, arriva a due chilometri al secondo per darvi un'idea, quando passa abbastanza vicino ad un altro di questi nuclei, il nucleo se lo acchiappa. A questo punto il neutrone termico, viene chiamato così, fa scindere un altro di questi nuclei che libera tre neutroni e fa scindere altri nuclei di conseguenza. Naturalmente se ogni volta escono possono uscire due o tre neutroni, non sempre tre, a volte due, a volte tre. Ovviamente se questo processo va avanti in questo modo capite che 3x3x3x3 si ha l'esplosione. Nelle centrali nucleari che cosa si fa? Si mettono, si creano delle condizioni tali per cui su tre o due neutroni che vengono sparati fuori, uno arriva a destinazione e gli altri due si perdono per strada o finiscono da un'altra parte, per esempio in uno dei nuclei di uranio 238 di cui parlavamo prima, che diventa un'altra roba. Questi sono i reattori nucleari che ci sono oggi in giro per il mondo. L'ultimo conteggio mi pare fosse 423. Comunque quello è l'ordine di grandezza, come vedete ce ne sono tanti negli Stati Uniti, tanti concentrati lì tra Francia e Inghilterra, un po' in Germania, un po' in Svizzera, un po' sparpagliati in giro per la Russia, tanti ce ne sono in Giappone. Comunque 423 di varie tipologie, ma tutte queste tipologie sostanzialmente sono reattori a neutroni lenti. Vi dico questa cosa perché una delle più importanti evoluzioni sulle quali si punta da tempo, che realisticamente potrebbero portarci verso un reattore nucleare pulito, è usare quei neutroni veloci senza fargli fare quel giochino di rimbalzi che li rallentano. Io qua entriamo in un campo dove mi muovo con un po' di fatica. Sostanzialmente tutti questi reattori, praticamente tutti, PVR vuol dire pressure water reactor, PVHR vuol dire ad acqua pesante invece che mai sempre acqua pressurizzata, reattore ad acqua pressurizzata, reattore ad acqua pesante pressurizzata, cioè al posto degli atomi di idrogeno ci sono atomi di deuterio, quindi l'idrogeno pesante, un nucleo formato da un protone e un neutrone. BVR boiling water reactor, quindi ad acqua bollente, ma c'è sempre l'acqua che fa quel lavoro lì. Vedete? Ci sono varie, qui c'è un'altra acqua, qui ci sono delle varianti che però sono abbastanza microscopiche. Andiamo avanti. Intanto comunque 4 e 30 ci sono già in giro, questo è per darvi un'idea. Allora se le vogliamo guardare da un punto di vista storico più o meno questo è quello che è successo. C'è stato uno sviluppo negli anni 50, hanno realizzato i primi reattori, ne hanno fatti tutti, tutte le varianti possibili, immaginabili, comprese quelle che stiamo sviluppando adesso per uso civile, le hanno sperimentati tutti. Piccoli, grandi, medi, al sodio, al piombo, ai sali fusi, a gas, non a gas, ad acqua bollente, tutti. In linea di massima sappiamo come funzionano. Da lì a fare un reattore civile licenziabile, cioè che supera tutte le prove necessarie perché ci si possa veramente produrlo e utilizzarlo come un reattore civile e produca l'energia che serve, non 20 kilowatt o 50 o 10 megawatt o un megawatt, ma centinaia di megawatt o gigawatt ce ne vuole. Tanto è vero che nonostante siano stati fatti degli anni in questi anni qua, gran parte, come dire, oggi dobbiamo quasi risvilupparli per arrivare a un reattore che possiamo pensare di utilizzare come abbiamo utilizzato quelli seconda generazione. Allora, prima generazione, esperimenti. Seconda generazione, questi sono di quei 430 reattori, adesso non so il numero preciso, ma 420, 410 saranno reattori di seconda generazione. Cioè qua dentro ci sono tutti i reattori come era il nostro reattore di Caorso, come sono la gran parte dei reattori francesi, inglesi, eccetera, eccetera, eccetera. Fatti bene, fatti male, compresi quelli che sono saltati per aria, diciamo, i 2 barra 3 che sono saltati per aria. Poi abbiamo la cosiddetta terza generazione. Allora, la terza generazione, compresa la terza generazione plus, che cos'è? E questi sono tutti i reattori ad acqua, eh? Tutti. Guardate, la VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV la terza generazione è come la seconda con l'aggiunta di una serie di robe fini di dettagli, moltiplicazione di sistemi di sicurezza eccetera eccetera ma al principio quello che avviene là dentro più o meno, mia nonna avrebbe detto lei stessa, cambia pochino le varianti sono tantissime a secondo di quanto uranio 235 c'è rispetto all'uranio 238, che tipo di moderatori, ma che tipo di sistemi c'è una serie di confine, c'è una centinaia di design diversi, decine quantomeno di fusi, di design diversi ma le reazioni fondamentalmente quello che accade dentro è sempre quella roba che abbiamo visto all'inizio quindi, neutrone che colpisce un nucleo, spara tre neutroni, facciamo fallire il bersaglio, uno arriva a bersaglio tutti devono rimanere su questo livello che viene chiamato di criticità 1 cioè per ogni neutrone, per ogni atomo che si scinde, un neutrone deve arrivare a destinazione se si va sopra salta per aria tutto, se si va sotto si spegne la reazione nucleare quindi ci sono queste barre di controllo, in grafite, in boro, in altri materiali che vengono tirate su e giù per accelerare o decelerare la reazione a secondo e mantenerla stabile la terza generazione più è un'evoluzione della terza generazione che non mette in discussione www, quello come il principio di produzione di energia fondamentale che c'è dentro cambiano anche qui tutta una serie di accorgimenti per esempio si vedono dei primi accenni o dei primi esempi di quella che viene chiamata sicurezza passiva che è un passo avanti importante che diventa più fondamentale nella quarta generazione che cosa vuol dire sicurezza passiva? vuol dire che per la fisica che regola il processo o per fenomeni fisici che quindi non dipendono dall'attivazione di qualche meccanismo dall'esterno il reattore ha dei meccanismi di salvaguardia faccio un esempio la centrale, se non avete visto la serie Chernobyl, guardate, è una ricostruzione molto ben fatta le centrali che stavano in Russia oltre a essere tenute insieme questo ve lo dico per testimonianza di ferro diretta col fil di ferro cioè c'erano robe di questo genere là dentro erano costruite al risparmio con una serie di compromessi molto gravi per esempio avevano un coefficiente termico positivo e avevano un coefficiente di vuoto positivo cosa vuol dire? che se aumentava la temperatura cosa che ti dice che la reazione sta prendendo una brutta aumentava anche la reattività che faceva aumentare la temperatura che faceva aumentare la reattività quindi se tu non intervenivi attivamente quella roba andava coefficienti di vuoto uguale se si svuotava dall'acqua aumentava la reattività che toglieva acqua producendo vapore che aumentava la reattività la sicurezza passiva funziona esattamente al contrario se tu fai un reattore costruito in modo tale che se aumenta la temperatura la reattività diminuisce il reattore per sua natura intrinsecamente tende ad autoregolarsi se tu al posto di usare l'acqua attenzione quando si dice acqua bollente si parla di acqua a 300 gradi ma l'acqua a 300 gradi sono 75 a seconda dei disegni dei design 150 atmosfere quindi è una pentolone in pressione se tu lì dentro invece di avere un liquido che tende a produrre riesci ad avere un reattore a pressione ambiente è ovvio che quel reattore è intrinsecamente più sicuro se al posto di avere dell'acqua hai un metallo come i reattori al piombo adesso ne parliamo che se per caso ti si buca il vessel cioè hai una fuoriuscita si solidifica invece di andare in giro dappertutto hai un elemento di sicurezza intrinseco d'accordo? questo è un concetto di sicurezza passiva che in parte è implementabile anche in reattori di terza generazione ci sono reattori aletto di sfere adesso noi entriamo in questi dettagli ma che hanno caratteristiche di questo tipo per esempio questi aletto di sfere o pebble bed reactor hanno questa caratteristica per cui queste sfere che contengono i piccoli granuli di combustibile se si scaldano si espandono l'espansione fa diminuire la reattività ok? andiamo avanti allora oggi sentiamo parlare di due fondamentalmente due novità più o meno in arrivo una più vicina una più lontana questa forse è un po' più lontana in realtà una e sono i reattori di quarta generazione nuovo nucleare nucleare pulito quarta generazione questo ha un senso ma non un senso preciso neanche in questo caso per la quarta generazione non è definita da un tipo di reattore ma da una serie di caratteristiche che dovrebbero essere queste i reattori di quarta generazione devono usare il combustibile in modo significamente più efficiente i reattori di seconda terza prima generazione terza più usano l'uranio 235 come combustibile l'uranio 235 è lo 0,7% dell'uranio naturale e ne usano una quota perché non riesce a bruciarlo tutto in più i neutroni quei neutroni che se ne vanno in giro che non colpiscono i bersagli non colpiscono l'uranio 235 colpiscono qualcos'altro per esempio gli atomi di uranio 238 che ci sono l'intorno i quali diventano più radioattivi a loro volta o si trasformano in plutonio per esempio che è una brutta bestia da trattare anche quello è fissile consente di fare le bombe ma non funziona come combustibile in un reattore di terza generazione mentre funziona in un reattore di quarta generazione poi dopo questo ci arriviamo minimizzare la produzione di scorie riducendone anche la durata perché allora intendiamoci un essere umano tutta l'energia che un essere umano occidentale utilizza nella sua vita se fosse prodotta da un reattore nucleare che produce scorie le quali vengono prese impacchettate di solito in una massa di vetro per tenerle stabili ecco questa massa di vetro che contiene le scorie che hanno prodotto l'energia che voi avete utilizzato in tutta la vostra vita è una roba così quindi le scorie sono pericolosissime ma i quantitativi sono veramente piccoli questo perché altra cosa se scioppa una centrale lì una centrale attuale se va in meltdown cioè tu devi tirare un cerchio di 100 km intorno alla centrale e lì non ci cammina nessuno cioè per secco per millenni diventa o comunque abbastanza pericoloso andarci ancora oggi diciamo nei dintorni di Chernobyl ci devi andare per poco tempo e poi tornare ad andartene perché se no comunque assorbi radiazioni in modo significativo ci puoi vivere magari qualcuno c'è anche rimasto magari riesci anche a scamparlo il cancro però insomma le probabilità di beccartelo sono molto alte però nonostante questo vogliamo ridurne ridurle vogliamo ridurle molto e vogliamo ridurne la durata perché il vero problema non è neanche avere una scoria altamente radioattiva ma avere una scoria altamente radioattiva che rimane altamente radioattiva per 200.000 anni perché il plutonio che si forma là dentro mescolato a quelli che vengono chiamati attini di minori altri nuclei atomici che vengono quei frammenti che si formano sono radioattivi a loro volta alcuni decadono in decenni altri in secoli altri in millenni altri in centinaia di migliaia di anni perché tu hai questo impasto di roba tutta abbastanza malsana che rimane altamente radioattiva per lunghissimo tempo ed è lì il problema di trovare un modo per metterla da qualche parte perché se tu dovessi stoccarla in sicurezza per qualche decennio beh ci sono tanti modi per farlo per due o tre secoli beh fai un bel contenitore bello tosto e ce la fai e ti metti al sicuro praticamente da qualunque scenario per centomila anni è un po' complicato depositi geologici simica geologica tutte cose che sapete il deposito geologico non esiste ancora uno al mondo funzionante per cui è un problema irrisolto allo stato attuale quello di dove mettiamo le scorie dei reattori nucleari di seconda e terza generazione l'altro l'altro aspetto è abbassare i costi e il livello di rischio finanziario costano tanto questi reattori di terza generazione costano più di quelli di seconda perché sono come quelli di seconda ma con una marea di roba attaccata per aumentarne la sicurezza che fa lievitare moltissimi costi e rende molto più complesso l'impianto inoltre c'è un problema fortissimo che è questo qua ci vuole un sacco di tempo per costruire un reattore nucleare se tutto fila liscio ci vogliono 7-8 anni diciamo nei paesi dove non stanno a guardare troppo per il sottile altrimenti gli anni diventano 10 e se per caso qualcosa va storto diventano 15 oppure 20 a questo punto il costo finanziario diventa enorme perché tu immobilizzi dei miliardi di euro per 10 o 15 anni ci paghi gli interessi sopra per anni e anni e anni quindi il costo finanziario diventa addirittura diciamo prevalente sul costo cosiddetto overnight cioè quello che pagheresti se potessi costruire il reattore in una giornata in una notte aumentare il livello di sicurezza in caso di incidenti gravi quindi quell'idea di cui vi ho parlato prima della sicurezza passiva e poi minimizzare i rischi di proliferazione nucleare eh sì perché a secondo del tipo di reazioni nucleari che avvengono nel reattore io posso tirar fuori produrre o meno dei materiali adatti all'utilizzo di armi a farci delle armi nucleari come per esempio il plutonio ora l'industria nucleare è legata a doppio filo è uno dei motivi per cui si fa fatica bene a capire esattamente i costi dell'industria nucleare perché c'è di mezzo sempre i militari e quello che succede in questi reattori dentro produce delle cose utili non in tutti dipende come sono anche qua ci sono dei dettagli cosa ci metti intorno se vuoi fare arricchimento non fare arricchimento però sta di fatto che il problema c'è il problema che come dire o questi reattori nucleari vengono alimentati da un combustibile che è uranio è arricchito di uranio 235 al 10 20% che è un ottimo punto di partenza per costruire delle bombe atomiche in più producono plutonio che è un ottimo punto di partenza per farci delle bombe atomiche è un caso assolutamente no sappiamo fin dagli anni 50 che i reattori nucleari si possono fare anche col torio anche se ci vuole sempre un po' di uranio 235 che fa un po' da fiammifero diciamo ma non si scelta questa strada perché siccome si voleva tenere insieme l'industria nucleare quella civile c'era bisogno di fare le armi si è scelta la strada dell'uranio 235 a tutta dritta allora questi sono gli obiettivi come si raggiungono con una c'è una soluzione no ce ne sono almeno 6 famiglie diverse che sono queste qua ora reattore veloce al sodio reattore veloce al piombo reattore ad altissima temperatura reattore raffreddato a gas reattore acqua supercritica reattore a sali fusi sono 6 di cui mi pare 4 o almeno 4 sono reattori veloci cioè non usano l'acqua non moderano la velocità dei neutroni questo è un vantaggio perché non c'è più solo l'uranio 235 che fa da combustibile ma tutto quello che gli butti dentro uranio 235 uranio 238 plutonio e rifiuti nucleari prodotti dai reattori precedenti diventa tutto combustibile caspita questo è un aspetto interessante motivo per cui io boccierei subito a proposito di identikit quelli che non fanno sta roba perché rendono più facile la proliferazione perché impediscono di bruciare le scorie e in più c'è un'altra cosa molto interessante adesso poi vi faccio vedere allora come vedete vi dico già che questo è molto lontano questo è molto lontano questo è molto lontano anche se offrirebbe un vantaggio interessante che questi sali fusi di solito miscela di sodio e potassio li puoi accumulare in un pentolone per cui puoi rendere il reattore modulabile vi ricordate che dobbiamo inseguire le produzioni di fotovoltaico ed eolico beh con la turbina a gas è facile l'accendi e la spegni con i reattori nucleari mica li accendi e li spegni una volta che li hai accesi li fai andare e loro bene o male hanno quella potenza lì sono stati costruiti come un motore senza l'acceleratore va allo stesso regime tutto il tempo quindi non è il compagno ideale ma è un buon compagno una roba è completamente aleatoria l'altra è completamente certa diciamo che riesce a fare un buon lavoro di squadra anche se non perfetto con questo è anche un po' meglio perché tu prendi un pentolone di sali fusi quando c'è meno domanda di energia accumuli sali fusi a 700-800 gradi per capirsi e ci produci energia elettrica quando ti fa comodo anche lì ci sono dei limiti non puoi fare un pentolone grande all'infinito però però questo 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 sono tutti lontani per 2050 lasciamo per ne scordiamocelo gli unici su cui ha senso ragionare sono questi quello su cui ha più senso ragionare è questo qua allora di questi due ci sono moltissime sperimentazioni per molte migliaia di ore considerate che i reattori al piombo fuso o una miscela di piombo e bismuto che è usato come refrigerante al posto dell'acqua lì dentro perché tanto è fuso funziona è un liquido con questi qua ci hanno fatto andare per decenni i sommergibili di classe alfa i russi che sono i più avanti su questo tipo di tecnologie ci sono cinque reattori di quarta generazione sperimentali del mondo uno è in uno in cina uno in india tre in russia nessuno in occidente allo stato oddio c'era il super fenix in francia che era sodio liquido vantaggio del piombo come si dice molto economico più vicino da fare svantaggio il piombo a quelle temperature è corrosivo quindi tu devi fare delle robe là dentro fatte con dei metalli apposta che non siano troppo sensibili alla corrosione il sodio non è corrosivo non ha questi problemi ma è il peccato che quando va a contatto con l'aria piglia fuoco immediatamente e quindi c'è questo problema che diciamo a proposito di sicurezza passiva non è il massimo comunque avete già capito che avete capito che la quarta generazione non è una roba ma sono almeno sei famiglie diverse e per ognuno di questi qua ci sono n diversi design possibili questa è la differenza fra le reazioni veloci e le reazioni lente ok fast reactor o thermal reactor in un reattore ad acqua funziona così è la roba che vi abbiamo spiegato prima neutrone veloce passa per l'acqua viene rallentato da quel gioco di rimbalzi colpisce l'uranio 235 si spacca in due partono due o tre neutroni colpisce un alto atomo di 200 eccetera eccetera nei reattori a veloci succede la stessa cosa che c'è qua salvo che non c'è l'acqua il neutrone arriva veloce sul nucleo di uranio 235 e lo spacca esattamente nello stesso modo la sezione d'urto è più piccola il neutrone ha meno probabilità di colpire il nucleo ma è certo che se lo colpi è più probabile che una volta colpito il nucleo il nucleo si spacchi le due cose un po' si bilanciano ma la cosa interessante è che tutta una serie di altre robe che si sono là dentro per esempio quando l'uranio 238 viene colpito da uno di questi neutroni fuggitivi si trasforma in plutonio con dei passaggi passa dal nettunio ma insomma diventa plutonio 239 il plutonio 239 se viene colpito da un neutrone veloce non da uno lento ma da uno veloce come nella bomba succede nella bomba è anche lui fissile e guarda un po' spara tre neutroni anche lui se piglia un altro uranio 239 o un atomo 235 è fissile se prende un 238 trasforma un'altra volta un atomo di uranio in uno di plutonio ma succede che vedete eccolo qua non avevo visto questi neutroni vanno in giro e colpiscono nuclei atomici c'è un nucleo si becca due neutroni l'altro rimane da solo non se ne becca neanche uno un altro se ne becca tre sta di fatto che i neutroni che arrivano così veloci a differenza di quelli lenti che sono come tirare una cicca contro come dire un muro rimane lì appiccicata lì è come sparare un proiettile per cui questi spaccano il nucleo che colpiscono bene o male non tutti alcuni li assorbono ma la cosa interessante è che colpendo i frammenti della fissione alla lunga li trasformano in elementi non radioattivi per cui la cosa straordinaria è che colpo oggi colpo domani neutrone oggi neutrone domani tu alla fine ti trovi delle scorie completamente diverse da quelle dei reattori di terza generazione o di seconda o terza più perché il processo come vi ho detto è sempre quello le scorie che escono da uno di questi reattori se li assemblate bene mettete dentro il combustibile giusto sono sì radioattive anche molto radioattive ma perdono molto velocemente la radioattività dopo 300 anni ve le potete mangiare magari no però sono sempre metalli pesanti raggiungono una radioattività simile a quella che c'è nell'ambiente ora fare un bel fusto che resiste 300 anni non è poi così difficile farlo che resiste 300.000 auguri anche perché devi metterlo in un posto dove sei sicuro che per 300.000 anni non succeda niente hanno detto le miniere di sale fantastico vuol dire che non c'è acqua in Germania hanno messo in una miniera di sale e poi è arrivata l'acqua perché uno sbaglia a fare i conti sbaglia qualcosa ok quindi questa roba è interessante anche perché in questi reattori nucleari voi potete mettere già in partenza non solo uranio 200 naturale o 235 più o meno arricchito ma potete già metterci del plutonio e abbiamo in giro del plutonio ci hanno fatto un sacco di armi di plutonio non sappiamo cosa farcene di questo plutonio e potete addirittura metterci dentro le scorie nucleari che avete prodotto con i reattori nucleari precedenti ora con delle proporzioni alcune cose non è che sparisco adesso spariscono nel nulla tutte le scorie nucleari intendiamoci però le riducete parecchio se uno ha un paese che ha già delle centrali nucleari costruendo questi reattori potrebbe alimentarli con le scorie riducendo di molto la quantità di scorie che diventano ancora meno e soprattutto facendo in modo che siano scorie che ci mettono molto meno tempo a decadere e a diventare innocue questo è il reattore al piombo veloce che sta realizzando una start-up italiana che si chiama Nucleo N-E-W-U-C-L-E-O gran parte dei ricercatori si trovano a Torino adesso sono in una fase molto precoce hanno raccolto però 400 milioni di finanziamento è considerato uno dei progetti più brillanti in giro e a piombo liquido il liquido il piombo circola per convezione o è in grado quantomeno di farlo a sufficienza da garantire una forma di raffreddamento anche se si rompe la pompa che pompa questo liquido un altro elemento di sicurezza passiva questo è considerato di petto uno dei design più intelligenti adesso magari non vi fai a parte che dura un minuto il video ma per capirsi un omino è alto a malapena quanto una di queste barre di combustibile un essere umano è alto più o meno quanto una di queste barre questa è una roba alta 5 metri quindi sono piccoli questi reattori comunque si possono fare piccoli hanno una circolazione naturale si pappano scorie e producono scorie a bassa entità alla fine della vita di un reattore di questo genere che non ha bisogno di essere ricaricato per 20 o 30 anni perché si produce da solo gran parte del combustibile perché quando vi ho spiegato prima che succede questa roba per cui tu butti dentro l'uranio 235 è il combustibile primario ma questo genera altro combustibile genera plutonio che viene bruciato genera mericcio che viene bruciato genera plutonio 240 che viene bruciato brucia anche le scorie quindi si dicono autofertilizzanti questi reattori ma adesso non entriamo anche in questo che se no facciamo ulteriore casino la cosa interessante è che quando questa roba ha finito la sua vita utile la lasciate lì il piombo si solidifica la tirate su con un camion avete già il vostro vessel che vi contiene le scorie è piombo scherma le radiazioni lo mettete in un posto sicuro per i primi 50-60 anni deve essere un posto sicuro ma già la radioattività comincia a scendere dopo qualche decennio ha già perso molta radioattività dopo un secolo ne ha persa moltissima dopo tre è diventato praticamente innocuo questi sono i tre stradi di progetto prima questo credo lo fanno in Italia quindi non c'è dentro niente di radioattivo perché è vietato da noi ma testeranno tutto il sistema pompe mica pompe poi ne fanno un prototipo in Francia e un reattore in piena scala in Inghilterra andiamo avanti seconda classe di reattori abbiamo parlato dei reattori di quarta generazione un'altra roba di cui sentirete parlare sono questi SMR small modular reactor reattori piccoli modulari qui alcuni di questi sono di quarta generazione e io direi che avrebbe senso che lo fossero l'idea qui qual è che se io faccio invece che reattori come questo questo è l'ultimo reattore costruito in Europa partito d'aprile quello di Olkiluoto in Finlandia poi ci torniamo invece di fare grandi reattori da un gigawatt un gigawatt e sei lì sono due reattori da 800 megawatt faccio dei reattori da 100 megawatt 30 megawatt 200 megawatt mi conviene questa è un po' chiamiamola la moda che però ha una sua logica e per darvi un'idea sono reattori più piccoli vedete qui l'omino sono reattori vedete qui le dimensioni di questo fabbricato rispetto agli altri sono reattori molto più piccoli dei reattori che conosciamo qual è la logica intanto vi faccio vedere questi sono i progetti di sviluppo di small modular reactor 11 in Europa 18 in Russia 2 in India 20 in Cina forse anche in Giappone ce ne sono persino 3 in Africa Stati Uniti e Canada a manetta quali sarebbero i vantaggi i vantaggi sarebbero costo minore lo faccio più piccolo mi costa di meno ma non solo li posso costruire tanti modular modulare dipende da questo in una fabbrica e poi li trasporto nel luogo in cui devono funzionare non li costruisco più sul posto dei grandi reattori li faccio piccoli come le batterie ne metto insieme tanti diminuiscono i costi finanziari intanto perché è piccolo ed è fatto in serie ma il secondo motivo è che io posso costruirne uno piccolo intanto che questo mi produce energia elettrica mi fornisce capitale per costruire il secondo poi due che vanno e producono energia elettrica mi danno capitale per costruire il terzo sono più semplici hanno un miglior rapporto superficie-volume essendo piccoli hanno più superficie rispetto al volume per cui tendono a sorriscaldarsi di meno un elemento di sicurezza sono per questo più sicuri si possono al momento del decommissioning invece di smontarli li prendi e li sposti e hanno bisogno di meno infrastrutture di rete cioè se tu metti lì un reattore da un gigawatt solo per portare via la corrente devi tirare su una rete elettrica molto complessa con questi piccoli no se li sparpagli se li metti tutti nello stesso posto no dal punto di vista della sicurezza piccoli e grandi i rischi che avvengano incidenti non cambiano ovviamente se succede un incidente a un reattore più piccolo è meglio che a un reattore più grande piccolo problema visto che parliamo in Italia se non sappiamo dove mettere un reattore figuriamoci di questi li dovremmo mettere centinaia per fare la differenza dove li mettiamo se non troviamo un posto dove metterne uno e aggiungo se non troviamo un posto dove mettere le scorie ha senso che ci mettiamo a costruire nuovi reattori questo persino chi sostiene come nucleare ragione che è un'associazione seria che non fa propaganda ma fa informazione ed è nuclearista naturalmente dice però questa cosa sacrosanta se vogliamo dimostrare al paese che siamo in grado di avere una politica energetica nucleare dimostriamogli che sappiamo gestire le scorie se no come possono fidarsi se non siamo in grado di risolvere questo problema andate a spiegarlo alla Sogin che si è mangiata a miliardi e miliardi di euro e non ha combinato nulla a parte dare distribuire prebende a destra e a manca allora ci siamo eh quanto costa questo è l'ultimo che è stato fatto è il primo di una serie dei cosiddetti come si chiamano European Boiling Reactor se non ricordo male EBR il prototipo del reattore all'acqua bollente europea dovevano metterci 4-5 anni ci hanno messo 18 anni dovevano spendere 4 miliardi ne hanno spesi 11 ci hanno messo una marea di tempo come vedete perché ci sono stati dei problemi tecnici alla fine ci sono sempre questi problemi tecnici eh ci sono posti dove li costruiscono in fretta la Cina e la Russia io ho qualche dubbio ce l'ho francamente quanto costano boh allora il costo a kilowatt di potenza varia dai due dichiarato eh dichiarati due dai soliti dai russi stati io ai sette che è quello che succede in Europa di solito quando ci mettiamo a fare un reattore nucleare anche in Corea siamo una via di mezzo due, quattro se guardiamo il costo dell'energia si va dai 15 centesimi la IE la IE cioè l'agenzia internazionale per l'energia che dice è lo stesso è lei stessa lo stesso ente in un rapporto ha scritto che erano 15 centesimi al dollaro di dollaro a kilowattora di energia parliamo quantità di energia non della potenza del reattore per ogni kilowattora di energia cioè quello che vi consente di tenere accesa per un'ora una stufetta per riscaldare il bagno per capirsi vi costa 15 centesimi produrre quell'energia la stessa IEA in un altro rapporto fatto in collaborazione con la Nuclear Energy Agency dell'Ox che ovviamente sostiene la necessità magicamente il prezzo è sceso a 7 centesimi al kilowattora lo stesso ente io vi faccio vedere questo perché figuratevi quando voi potete divertitevi e troverete qualunque costo possibile immaginabile questo è un'altra tabella della World Nuclear Association quindi una fortemente orientata al nucleare questi sono i costi LCOE cioè Levelized Cost of Energy basato sul ciclo di vita della centrale for a ninth of a kind quindi l'ennesimo reattore di un tipo di cui dovreste aver fatto il primo poi il secondo poi il terzo dopo che ne avete fatti un po' avete imparato come si fanno riuscite ad abbassare i costi e loro che sono molto ottimisti dichiarano queste cifre oggi questo fotovoltaico costa un po' meno l'energia prodotta dal fotovoltaico siamo sui 30 40 per darvi un'idea euro a megawattora 45 che sono 4 centesimi e mezzo a kilowattora costo di produzione il fotovoltaico con un grande impianto tra i 3 e i 4 attenzione 3 o 4 ma col fatto che è oscillante questo invece ci potete contare a continuità ed è abbiamo detto questo un vantaggio perché vi aiuta a controbilanciare la discontinuità delle rinnovabili comunque vedete che i prezzi sono comunque molto variabili e variano molto come vi ho spiegato non solo per effetto del tempo che si impiega se c'è incertezza sui tempi i costi possono esplodere temo che in Italia saremo uno di quei casi in cui ci sia incertezza sui tempi non riusciamo a fare ci mettiamo 7 anni a autorizzare un impianto eolico una pala eolica 7 anni vedete voi cosa ci vuole per fare una centrale nucleare 20 a essere ottimisti io sto cercando di darvi tutti gli elementi quelli positivi e quelli negativi ripeto non sto cercando di convincermi né di una cosa né dell'altra neanche vi dico cosa ne penso io guardate qua guardate qua guardate qua e qualche domanda io me la faccio questi sono riusciti a farne esplodere uno eppure viene 61 questi pure sono riusciti a farne esplodere uno speriamo che sia stato uno però io qualche domanda su queste cifre me la faccio sta di fatto che se a parità di tempo se anche solo il tasso di interesse cambia perché c'è inflazione non c'è inflazione la banca centrale abbassa o alza i tassi di interesse andiamo col 3% di interesse mai visto in vita mia per un prestito su una roba di questo genere 45 al 7% diventa 71 al 10% diventa che è più realistico diventano 96 dollari a megawattora cioè 9,6 centesimi a kilowattora siamo su 6 centesimi con il gas adesso di più perché il gas è alto ai 4 centesimi con il fotovoltaico un grande impianto quello che mettete sul tetto il doppio 8 non stiamo contando le infrastrutture che ci stanno attorno come per il fotovoltaico non sto contando tutti i sistemi di accumulo che servono se chiedete a Enel GDI quelli che si occupano di Global Distribution Infrastructure cioè quelli che si occupano della distribuzione dell'energia elettrica vi diranno che per ogni euro per andare avanti con la transizione ecologica per ogni euro di fotovoltaico che mettete giù dovete mettere giù un altro euro di infrastrutture loro dicono 1,5 e a loro gli piacerebbe che fosse 1,5 diciamo 1 attenzione che più andiamo in là e più diventa difficile cioè non è che la parte difficile della transizione ecologica con le rinnovabili è quella che sta alle spalle perché tu cominci risolvendo i problemi facili poi ti restano quelli difficili da risolvere come facciamo l'acciaio l'acciaio sì che servirà l'idrogeno probabilmente o in parte credo che lo sostituiremo con altri materiali ma i fertilizzanti è difficile farli senza idrogeno come facciamo l'ammoniaca senza idrogeno le dura allora questo per dirvi i costi purtroppo allo stato attuale la verità è che bene non li conosciamo restano le tempistiche le tempistiche sono anche qua dipendono dalla capacità del singolo paese di essere o meno veloce i reattori di quarta generazione allo stato attuale non esistono dal punto di vista commerciale ci sono cinque reattori sperimentali non so se pensate che sia ragionevole con quello che sta succedendo che l'Europa vada a comprarli dalla Russia io lo escluderei quindi stiamo parlando di un bel po' di anni che parliamo di terza generazione che esiste anche se la terza generazione è più quello come mi ricordo mai O'Kiluoto O'Kiluoto in Finlandia costerà di meno di quello lì rifarne uno ma comunque costerà e il tempo che è richiesto è abbastanza lungo diciamo che in linea di massima da qui al 2050 costruire abbastanza reattori di terza generazione da fare la differenza è molto difficile di quarta generazione è ancora più difficile perché questi non esistono da un punto di vista commerciale quindi il nuovo gli small medium reactor idem arriveranno prima della quarta generazione non so se ho ancora da qualche parte c'ho un tabellone infinito su questa roba ma ve lo risparmio però i primi dovrebbero arrivare i primi dovrebbero essere licenziati tra il 2030 e il 2035 i primi prototipi di reattore commerciale prototipo di reattore commerciale quindi ora che tu li hai costruiti e magari ne hai costruiti abbastanza da fare la differenza il 2050 è bello che è arrivato sulla fissione direi che ci possiamo fermare qua e mi fermo qua anche io perché insomma vi ho già ho già parlato molto a lungo se avete domande su questo o se volete su questi o sulla fusione ne parliamo questa panoramica molto interessante insomma sul nucleare che noi in Italia abbiamo abbandonato ma ci circonda poi in Europa e mi chiedo scusa magari parto io probabilmente forse dovremmo anche ragionare su scala europea per progetti di questo tipo perché tu appunto parli di una produzione continua di energia che la Francia ci vende se non la vendesse a noi questo suo surplus di energia dove lo disperde come lo utilizza quindi esiste un'esigenza proprio di distribuzione che appunto su una scala più ampia probabilmente avrebbe risposte più semplici ma non solo io ho una domanda che mi faccio da tanti anni perché investiamo sulla fusione facciamo un oggetto come ITER comunque stiamo parlando di 15-20 miliardi perché a livello europeo mi do anche una risposta se volete ma perché a livello europeo non decidiamo di investire nel dubbio che ci possano servire perché io non so se ci serviranno cioè non so se una delle altre strade o altre strade ancora nuove l'idrogeno naturale si è scoperto che ci sono dei luoghi del mondo a cui puoi fare un buco e tiri fuori l'idrogeno io non so se ci sia se nei prossimi anni ci troveremo in mano delle soluzioni convincenti per lo stoccaggio e la trasmissione dell'energia ma questo secondo me non è il momento di chiudere porte è il momento di aprire di tenersi aperte più porte possibili per poi utilizzare diciamo quelle che si rivelano un vicolo cieco vediamo quelle che si rivelano e quelle che invece ci portano lontano allora dico se vogliamo tenerci aperte una porta facciamo questo investiamo in 15 o 20 anni 100 miliardi dico un numero a caso però ragionevole 100 miliardi voi pensate cosa sono 100 miliardi di euro in 20 anni per l'Europa sono 5 miliardi all'anno a livello europeo ma ragazzi ma li spendiamo in fuochi d'artificio cioè per sviluppare tre o quattro prototipi di reattore ideale cioè vogliamo un reattore io dico voglio un reattore che mi risolva tutti che abbia tutte quelle caratteristiche desiderabili però non lo facciamo facciamo tante cose insieme mettiamo montagne di soldi per esempio sullo sviluppo dell'idrogeno che come avrete capito io sono un tantino scettico e non li mettiamo su una roba del genere forse perché ci sono di mezzo delle industrie che sono molto nazionali perché c'è di mezzo l'aspetto militare che è ancora molto integrato in quel mondo lì però questa sarebbe una risposta europea a un problema una risposta credo seria aprire delle strade poi nel frattempo vediamo cosa succede sugli altri settori e capiamo se alla fine ci serve non ci serve ma se ci serve siamo pronti complimenti scusa la voce ma vabbè noi abbiamo abbandonato il nucleare con un referendum un po' di anni fa io avevo votato no nel senso dell'abbandono ma non sono un esperto un po' per no forse io solo una vole non so quando è stato no ecco esatto ok dico solo il secondo ok dico solo il secondo però quello che è la mia domanda è che senso ha demandare siccome questo è un argomento tecnico scientifico bisogna avere competenze che senso ha demandare alla gente la scelta io penso che non abbia senso demandarlo alle persone perché credo che ma come in tutte le cose o astronomi tutte le cose su un argomento specifico il 99% della gente è ignorante come prima come risposta brutta ma il vero vero problema che poi li devi mettere da qualche parte se hai un'opinione pubblica radicalmente se hai un'opinione pubblica che almeno al 50,1% ti dice di sì a un tema così controverso sono d'accordo intendiamoci io sono d'accordo con te se fossimo tutti ingegneri dottori sarei d'accordo con te non ci sarebbe neanche bisogno di discuterne probabilmente faremo una scelta tecnocratica diciamo così ma siccome poi devi metterli da qualche parte e non puoi sparare alla gente a meno che non cambiamo come dire regime e non diventiamo un altro tipo di regime ignorare questi aspetti rischia di essere controproducente rischi che tu vuoi fare un reattore poi ci metti 30 anni a fare un reattore e un reattore di questo 40 miliardi di euro e a quel punto cosa è risolto se poi dobbiamo metterne decine o centinaia piccoli perché intendiamoci o facciamo 10 giga non dico tanto ma 10 giga di reattori e allora spostiamo il problema ma se dobbiamo fare 2 giga di reattori è una roba dimostrativa che senso ha siamo pieni di paesi intorno che non hanno di questi problemi ci prendiamo l'energia elettrica da loro quindi ti dico hai ragione che è una scelta tecnica ma è una scelta tecnica che in un paese democratico difficilmente può essere presa prescindendo dalla volontà popolare visto il tipo di reazione che ci può essere guarda io ce ne avrei una sfizza di domande da fare però facciamo connessa con la domanda che ha fatto lui noi abbiamo fatto già due referendum in Italia sull'argomento immaginiamo che domani a livello politico decidano di andare avanti ok prendiamo la strada del nucleare ma dobbiamo fare ancora un altro referendum o basta la scelta politica voglio dire noi abbiamo già votato due volte come no quanti di voi pensano che bisognerebbe fare un referendum alzate la mano quanti di voi pensano che sia una scelta che può essere presa indipendentemente dalla politica no no è ovvio no no ma immaginate che si hai ragione tecnicamente a livello dovremmo abolire avere qualcosa da abolire non ce l'abbiamo sostanzialmente dice hai ragione perché in Italia referendum però si può fare una consultazione si può fare questo dal punto di vista della consultazione è una cosa che si potrebbe fare si può fare a livello regionale se lo sono inventato le regioni figuriamoci se non lo può fare lo Stato consultivo si potrebbe fare quanti pensano che una decisione del genere dovrebbe essere presa attraverso una consultazione popolare lasciamo perdere i tecnicismi pochi quanti pensano tu pensi di sì ma infatti quanti invece pensano che il governo ha bisogno possa decidere di propria iniziativa quindi di più poi sarebbe interessante cambiare pubblico e vedere che cosa succede con un pubblico che non viene alle conferenze della Schiapparelli perché voi non è che siete da questo punto di vista un campione significativo della popolazione siete un'elite di persone che sono disposte a venire il venerdì sera alle nove invece che andare a fare altro a sentire una conferenza di uno come me che quindi non lo so se ha detto di no tu dici quindi è finita tu dici è legittimo anche questo premesso che probabilmente è meglio stare fuori completamente dalla politica perché non c'entra aggiungo ancora io sono fisico di formazione non nucleare no 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 bravissimo ma nel 1986 si è votato subito dopo Cernobil che senso ha seconda cosa votare e non votare ancora ma quanti referendum sono stati rivoltati e chi se ne frega di quel che si è deciso prima a partire dal finanziamento dei partiti ma stiamo fuori dalla politica dai maggioritari minoritari tutto quello che vogliamo quindi i referendum non valgono niente per favore poi scegliere tra il referendum tra persone ignoranti e fare decidere un governo ancora più ignorante ragazzi c'è da aver paura eh e poi se vogliamo fare una vecchia battuta fare il referendum ma tra Gesù e Barabba si è scelto Barabba no grazie qualche altro Stato ha mai fatto un referendum su queste cose qualche altro Stato Allora io i due referendum li ho visti io sono un perito nucleare io nel 1980 mi sono diplomato poi sono entrato a Politecnico di Milano proprio nel settore nucleare ovviamente io ho scelto lì lo studio sbagliato perché dovevo produrre potenza nucleare e ovviamente il referendum ha detto non la facciamo forse non vi è noto che esistono 15 centrali nucleari che furono fatte non fecero mai un kilowatt e attualmente mio fratello un altro perito nucleare va in queste centrali a controllare che non ci siano dispersioni di radiazioni alcune di queste centrali nucleari che non producono un kilowatt hanno qualche decina e in alcuni casi centinaia di persone che lavorano dentro e non ci sono ingegneri nucleari ci sono amministrativi biologi eccetera certo è giusto le abbiamo accese hanno contaminato i vessel e di conseguenza bisogna vedere che non creino delle problematiche favoloso noi abbiamo scelto di non farla domani mattino Superfenix reattori estremamente pericolosi hanno dei vantaggi però hanno anche delle criticità importanti perché sono proprio dei reattori a fissione esplosiva se ci fosse un problema quelle sono delle bombe atomiche perché hanno la fissione veloce esattamente quella nucleare io prendo una bella sfera di plutonio lo comprimo raggiungo la massa critica ciò no 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 attenzione assolutamente molto più problematico dei nostri che erano dei BVR cioè reattori che avevano acqua alla pressione atmosferica ci fosse stata una dispersione era un problema e contenevano due circuiti sì certo ma sono comunque due circuiti separati ne perdiamo efficienza lasciamo perdere i sovietici che invece usavano i BVR che sono molto più rischiosi perché il fluido di raffreddamento era praticamente ad altissima pressione e ammigliorava il rendimento ma a prescindere da queste considerazioni tecniche di reattori vecchi di 40 anni quindi oggi abbiamo delle tecnologie nettamente migliori qualunque cosa facessimo oggi è molto più performante e molto più sicura ma se succede un pasticcio vediamo Cernobil mi ricordo ancora che ero al Vigorelli arrivò una bella pioggia e sono per fortuna ancora qui a raccontarlo perché io quella pioggia radioattiva l'ho presa signori se scoppi in Francia scoppi in Germania o da quelle parti quella radiazione ce l'abbiamo il nostro mondo è un condominio non è che quello che succede al terzo piano non lo vedo quello del primo ulteriore passaggio quella stupenda centrale nucleare è finita è stata fatta in un paese del nord Europa quelli a maggioranza verde Germania è a maggioranza verde quelli gli dicono no non fare quella cena e li costruiscono ma qui da noi no quindi in Germania no gli affermati oggi e nei paesi del nord Europa che ci danno le oliche tutte queste cose però li costruiscono per cui oggettivamente c'è qualcosa che non mi torna perché paesi che hanno un'alta percentuale di verdi poi dopo si costruiscono per risolvere i propri problemi energetici costruire i problemi energetici li abbiamo oggi fare una centrale nucleare ci vogliono 10 anni vuoto per pieno se va tutto liscio cioè non ci sono problemi non ci sono cose inizia a montarla oggi forse avremo quell'energia fra 10 anni fra 10 anni noi dovremo costruirla almeno con una potenza doppia perché l'esigenza fra 10 anni di energia sarà ulteriormente maggiore sicuramente preferisco un reattore fertilizzante come ha giustamente detto Melis è un reattore che alla fine mi porta poche scorie attenzione che c'è molta demagogia io ti dico che è un pericolo eccetera eccetera per andare alla pancia della gente il nucleare non risolve il problema non me lo risolvono le paleoliche non me lo risolve nulla ho appena scoperto oggi una cosa incredibile e che cercherò di portare nel nostro paese un sistema fatto in Germania che si chiama energia cinetica che sfrutta un meccanismo di movimentazione di 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 una catena che viene fatta muovere tramite della dell'aria compressa all'interno di una di una vasca che riesce a produrre fino a 40 kilowatt di potenza in grosso modo un armadio da un alternatore che viene attaccato a questo sistema meccanico elettrica elettrica no 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 energia elettrica viene no 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 e questa è stata la cosa che mi ha fatto quando me l'hanno presentata gli ho detto ma va bene d'accordo produci ma il rendimento quanto è quanto ti occorre per fare funzionare questa macchina alla fine dei dati che ho letto cercherò di approfondirlo sono circa del 25% su 40 kilowatt prodotti 10 servono per alimentare il sistema e 30 li porto in produzione saranno da analizzare ci sono tante altre soluzioni ma che alle volte non vengono presentate non so perché non so per quale motivo sì allora quando la risposta io mi spiace su questo sono non ce lo dicono io mi occupo di altro perché c'è sempre un motivo per cui qualcuno ti dovrebbe essere nascondere qualcosa e c'è sempre un motivo per cui qualcun altro la stessa cosa te la dovrebbe dire cioè se c'è qualche interesse a tenere nascoste soluzioni mirabolanti c'è anche qualcuno che ha interesse a tirarle fuori perché guarda caso sono vendibili ed estremamente diciamo profittevoli cioè se c'è una macchina che senza semplice piccola economica non inquinante che produce energia io sono convinto che ci sarà qualcuno che la vuole vendere quindi ho visto troppi negli anni oggetti pretenziosi che dovevano produrre energia che non producevano assolutamente niente che mi permetto mi scusi di dubitare di questo oggetto di cui lei sta parlando senza offrire peraltro nessun tipo di spiegazione perché questa la sua non è una spiegazione allora forse le posso consigliare si informi per qualche mese prima di parlare di presentarla come soluzione mi scusi ma io faccio sto lavoro e combatto quotidianamente con la disinformazione c'è in giro tutto e il contrario di tutto quindi prima di venire a raccontare mi scusi a un pubblico che c'è la soluzione miracolosa scoperta guarda caso oggi io le consiglio approfondisca parecchio si faccia come dire uno studio approfondito e dopo venga a dirci mi scusi ma se no prima discutiamo se bisogna le decisioni tecniche le deve prendere il pubblico o meno non si può ragionare sulla base di una cosa scoperta un po' così oggi mi scusi io lasciavo finché ma quando si parla delle opinioni sul nucleare è un conto ma adesso guardi ne ho viste e sentite troppe con consiglio di passare alla successiva domanda lasciamo spero di avere l'occasione domani di portarle una proposta magari l'ho conosciuta l'ascolto molto gradevolmente su Radio 24 è assolutamente ma mi ripropongo di approfondire questa cosa ma se fosse reale mi farebbe piacere un'innovazione portarla nel nostro paese assolutamente va bene va bene direi un'ultima domanda veloce se c'è dal pubblico ecco la mia era semplicemente una curiosità sono un programmatore lezioni di diritto un po' dormivo in realtà quindi la mia era puramente una curiosità tecnica quando ha parlato dei reattori modulari giusto per avere un'idea quanto carburante possono contenere perché comunque se devono funzionare per 20-30 anni devono avere il carburante per tutta la vita e siccome hanno una dimensione appunto contenuta come dice il nome volevo giusto capire un attimo quanta quanta una risposta unica dipende da mille dettagli due questi sono reattori autofertilizzanti e utilizzano non solo lo 0,7% del combustibile ma il 100% non lo bruciano tutto ma neanche gli altri lo bruciano tutto quindi come quantità di materiale radioattivo che c'è dentro il centro molto 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 meno di quello che c'è in un reattore più grande in un reattore normale si sostituiscono il combustibile dura 3 o 4 anni di solito anche qua non è che ci sia una risposta unica perché ci sono 20.000 varianti ma siamo sui 3 o 4 anni in realtà poi si interviene più spesso perché si cicla il combustibile cioè non è che aspetti che arrivi in fondo e poi riparti questi reattori veloci hanno un'altra fisica non usano una piccola percentuale di quello tu normalmente prendi l'uranio naturale che ha lo 0,7% di uranio 35 lo arricchisci con le centrifuge e altri metodi per aumentare la percentuale di uranio 235 in quello porti dallo 0,7% al 10% al 15% al 20% più sali più quella roba si presta alla proliferazione nucleare a bombe sporche e ulteriormente perché è la parte iniziale che è la più difficile da fare di arricchimento passare poi dal 20 all'80 all'90 credo che sia molto più facile quindi essendo due fisiche completamente diverse la quantità da 4 anni che è la durata diciamo del combustibile di un reattore da 1 gigawatt di terza generazione ai 20 che ti può durare uno di quarta generazione che però non usa lo 0,7% ma il 100% anche se parzialmente ma tutti e due del carburante c'è molto meno materiale nucleare dentro uno di questi small medium reactor ok e in generale in un quarta generazione a neutroni veloci c'è meno carburante meno materiale fissile addirittura questi che sono cosiddetti autofertilizzanti producono più materiale durante il loro funzionamento di quello che tu gli metti dentro originalmente poi lo bruciano non è che se no violeremo ancora una volta le leggi della termodinamica però uno dei vantaggi è proprio che c'è meno roba pericolosa dentro per essere ok allora direi di ringraziare abbiamo fatto tardi il nostro Maurizio Melis grazie è uno stimolo comunque a rimanere informati insomma a seguire un po' questi argomenti che sono argomenti vitali insomma per il nostro futuro grazie allora arrivederci e prossimi appuntamenti grazie